sono le 7 di venerdì 24 giugno 2022 e bentrovati alla rassegna stampa di fanno tv leggeremo come tutti i giorni la sintesi delle notizie pubblicate dal resto del calino dal corriere adriatico per quanto riguarda le pagine locali ma cominciamo subito per il poco tempo a nostra disposizione a partendo dall'almanacco del giorno ed oggi vediamo che si festeggia una festa particolare non un santo ma una diciamo così una situazione ebbene oggi si festeggia il sacro cuore di gesù vediamo come nata questa festa nella città di parei le monial nel 1670 a santa margherita maria alla coc prostrata davanti al santissimo sacramento apparve gesù che le mostrò il suo cuore da allora si diffuse la devozione al sacro cuore di gesù e finché papa clemente decimo le diede il benestare della chiesa per oggi si festeggia anche un altro santo e san giovanni battista un grande santo martire cugino di gesù figlio di elisabetta detto appunto il precursore perché aprì con il suo battesimo le vie del signore e poi se volete oggi si festeggia anche anzi si festeggia ricorre anche la notte delle streghe perché il 24 giugno è la notte in cui si riuniscono le streghe e celebrano il loro sabba ma questa è una cosa che con la religione non ha nulla nulla a che fare ed ora passiamo alle previsioni del tempo fotocopia rispetto alle giornate trascorse in una giornata ancora stabile con cieli prevalentemente poco nuvolosi temperature massime che si alzano con sui 34 35 gradi e non oltre i 31 e 32 sulle coste dove spira un po di brezza comunque i venti sul litorale spireranno da una direzione di ovest sud ovest la stessa per quanto riguarda l'entroterra non ci sono variazioni il mare si mantiene calmo apriamo dunque i giornali sulle prime pagine e vediamo come l'apertura del corriere adriatico ecco ve la mostro parla di siccità è un male di stagione ma ormai la stagione è sempre quella sia d'inverno che d'estate la siccità impera il polmone idrico della provincia che in realtà è il fiume metauro è in sofferenza appello del lato tutti i sindaci del territorio si occupano si preoccupano anzi di questo problema e si preventiva anche una ordinanza ormai per limitare i consumi niente lavaggi alle auto niente innaffiamento dei giardini e di orti anche pesero e valle foglia vietano gli sprechi ma tra poco lo farà anche fano la foto notizia centrale sul corriere adriatico è dedicata a rocca costanza di cui fratelli d'italia nei giorni scorsi aveva richiesto la polizia perché era cosparsa di rifiuti ed ora l'amministrazione comunale corre ai ripari operazione polizia prevedendo appunto la ripulitura di tutta l'area le tre notizie centrale pubblicate nella prima pagina del corriere adriatico a pesaro sulla vasca di colmata in questo caso si parla di dragaggio garofalo incontra gli operatori e per quanto riguarda una piscina fracassona il cui impianto di ventilazione crea rumore non fa dormire i vicini di notte ci sono delle proteste affano però si corre ai ripari per quanto riguarda il rinfoltimento delle scogliere in due tratti molto problematici che da tempo attendono provvedimenti e poi vedremo qual è per quanto riguarda la cronaca aveva coca e ascis scatta l'arresto bis una seconda volta in 15 giorni era veramente imperterrito il gestore di un bar che nonostante appunto fosse stato sorpreso dagli inquirenti aveva continuato a spacciare nuovo schiaffo un abruzzese alla segreteria dei nostri porti le marche umiliate ebbene anche questo può accadere ma poco conta l'origine delle persone basta che siano competenti ai loro settori insomma ai loro problemi vediamo la pagina di apertura del corriere adriatico quella di fano abbiamo accennato che si parlava di rinfoltimento delle scogliere ora si passa dalle parole ai fatti appaltati i lavori a ponte sasso si tratta del rinfoltimento dei capi delle scogliere presenti che erano ammalorati che si erano degradati in modo da inrobustire almeno appunto le parti terminali dei setti e far sì che il mare non inrompa con forza nella spiaggia e poi si copre il buco di sassonia quello davanti ai bagni carlo sono state splettate le procedure d'appalto sono state individuate le ditte che effettueranno i lavori ora le parti burocratiche sono terminate e non resta che procedere si spera speditamente alla esecuzione della protezione del litorale i bagnini di ponte sasso erano preoccupati lo erano anche i concessionari di bagni carlo ora si spera che il problema venga risolto e ancora si continua a parlare a fare polemiche anche ancora sui giornali per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia ok ma se vale per tutti il comitato noi di fano sud chieda un incontro a seri se arrivi a falconara non ci dovrebbero essere zone escluse per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia se la si fa la si deve fare per tutti è inutile fare la deviazione a metauriglia per poi lasciare tutta la zona di fano sud di mondolfo e di senigallia nei pressi della costa sarebbe un intervento parziale e inefficace poi per quanto riguarda anche lo sviluppo del turismo giriamo la pagina selezioni e fondi alle manifestazioni vogliamo essere in commissioni parlano così le associazioni di categoria le quali intervengono sulla recente mozione approvata dal consiglio comunale nella sua ultima seduta che concede che invita anzi diciamo meglio invita la giunta a concedere sostegni a concedere contributi a quelle associazioni che organizzano gli eventi le manifestazioni in base al successo di questo cioè in base al merito e non alle amicizie e non alle appartenenze politiche i rappresentanti delle categorie chiedono di avere voce nelle valutazioni vogliono intervenire anche loro si costituisce un comitato tecnico secondo la proposta appunto approvata dal consiglio comunale un tavolo di lavoro che poi giudicherà il valore stesso degli eventi e in base a questi poi la giunta concederà i suoi contributi è una importante innovazione che dovrà essere però codificata nella rivisitazione del regolamento e credo che ci vorrà del tempo torna il paglio delle contrade a proposito di manifestazioni e ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione del paglio delle contrade dopo il 2021 un anno che ha insomma sofferto molto a causa della pandemia per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e di manifestazioni seguiranno tra breve a partire da domenica a primo scusate da venerdì primo luglio fino a domenica tre diversi eventi diverse manifestazioni di rievocazioni medievali tre giorni spettacolari grandi sfide nel medioevo dei malatesti insomma un periodo che fu molto importante per lo sviluppo della città di Fano fu un periodo di fiorimento, di sviluppo, di arte, di provvedimenti, di crescita anche urbanistica della città ricordate l'ampliamento malatestiano con tutto il quartiere dei Piatelletti fino al bastione San Gallo le mura romane avevano una circonferenza più ristretta rispetto alla città Pandolfo III invece l'amplio costruì un sistema difensivo efficace che poi magari non resse di fronte alle armate dei Montefeltro però insomma il periodo del malatestiano fu un periodo d'oro per la città di Fano ebbene grazie alla Pandolfaccia si rinvocheranno quei fasti costumi, gare di arcieri, balestrieri, spettacoli, rievocazioni storiche tre giorni all'insegna del Medioevo nel centro storico di Fano e invece guardiamo questo articolo a fondo pagina pubblicato dal Corriere Adriatico sembra una distesa francese ma siamo in Italia, siamo nelle nostre colline a Monbaroccio distese di lavanda in fiore il colore blu per vinca si estende diciamo così sulle nostre colline due weekend alla scoperta della fioritura delle erbe officinali e della distillazione non siamo a Castelluccio dove magari i colori danno uno spettacolo suggestivo ma le colline di Monbaroccio fanno veramente a gara quelle di Alapiana di Castelluccio per quanto riguarda la lenticchia ebbene torna la lavanda in fiore a Monbaroccio e non solo che nell'edizione 2022 sarà articolata in due weekend domani e domenica ed il 2 e 3 luglio una bella manifestazione per visitare anche il nostro entroterra tiriamo ancora la pagina e siamo sulla Val Metauro ecco il titolo di apertura un inconsueto abbinamento di carattere gastronomico proposto da Giuseppe Cristini che è direttore dell'Accademia del Tartufo abbinare al tartufo il pesce azzurro l'abbinamento a tavola nuova ricetta lanciata da Cristini sono stato, dice poi, a margine della notizia ma forse era questa la vera notizia sono stato nominato commendatore un successo un successo che riempie d'orgoglio appunto il personaggio meritatamente e veniamo alla cronaca stalking e minacce alla moglie rinviato a giudizio si tratta di un romeno di 48 anni che è stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti a famiglia per l'accusa avrebbe avuto pesanti momenti di rabbia amplificati poi dal consumo di bevande alcoliche si tratta appunto di un 48enne che ha malmenato con diverse aggressioni la moglie addirittura l'avrebbe presa per il collo all'interno tutto si sarebbe consumato tutto all'interno delle mura domestiche il motivo, la gelosia ma forse anche una tendenza alla sopraffazione lui si sentiva un marito padrone e quindi la moglie doveva fare tutto quello che diceva appunto il marito magari anche con diverse umiliazioni il GUP ha rinviato a giudizio il romeno assistito dall'avvocato Tommaso Patrignani una storia però che si complica perché nel dibattimento del giudizio il giudice ha sentito anche la figlia e la figlia invece ovviamente di essere assegnata alla mamma alla madre ha preferito essere assegnata al padre al padre che era il carnefice mentre la madre era la vittima insomma c'è qualcosa da chiarire all'interno di questa famiglia e passiamo alla Val Cesano dove a Mondavio vediamo che si preannuncia un'estate ricca di manifestazioni abbiamo parlato poco prima dei Malatè Stafano e non possiamo non parlare della Rocca di Mondavio una dei capolavori del nostro sistema medievale nella nostra città Francesco Martini insomma è stato il grande architetto di questo maniero medievale e vediamo che ci saranno ospiti di eccezione Vergassola e Riondino popolano l'estate della Rocca sono stati presentati a Mondavio gli eventi dalla musica al teatro passando per il Rinascimento e in questo caso il separio si alzerà domani pomeriggio con la notte romantica in uno dei borghi più belli d'Italia seguiranno visite guidate musica, cene martedì scatteranno le serate rinascimentali ci saranno visite animate nella Sala della Rocca tanta musica la lirica il 7 e il 13 luglio il 29 agosto al Chiostro Rocca il giorno dopo in Piazza della Rovere ma tutto poi culminerà nella rievocazione storica della caccia al cinghiale con la 61esima edizione del banchetto rinascimentale per concludersi poi a Ferragosto con lo spettacolo Suono e Luce un spettacolo bellissimo suggestivo che vede un incendio simulato alla Rocca ed è veramente un'immagine veramente suggestiva giriamo ancora la pagina vediamo Senigallia proposta per l'ex discoteca Shalimar data all'asta un futuro da struttura sociosanitaria un immobiliare di Roma ha offerto 715.500 euro però serve l'ok del giudice fallimentare dei creditori in quanto l'offerta doveva raggiungere il prezzo di 954.000 ebbene è stata offerta una proposta è stata insomma una somma minore se il giudice e i creditori accetteranno ci sarà un nuovo destino per questa struttura che diventerà appunto una struttura sociosanitaria se la dovrebbe essere aggiudicata una ditta immobiliare di Roma ed ora diamo un'occhiata anche allo sport vediamo qui le due principali società sportive della nostra provincia la visse tira fuori le forbici partirà anche De Respinis l'attaccante è destinato ai saluti nonostante il contratto che aveva firmato pure Denuzzo, Pelizzari e Silenzi non rientrano più nei piani della società si sta smobilitando si sta cambiando un po' l'organico della società per cercare di rinforzarlo ovviamente e non per esautorarlo invece Fano sarà un Fano grintoso lo dice il collaboratore tecnico Mauro Mosconi che è fratello di mister Andrea pronto per la nuova sfida dovremmo dare tutto senza mollare mai l'attaccamento alla maglia dovrà essere morboso si cerca di caricare anche dal punto di vista emotivo i giocatori per affrontare la nuova impresa del campionato un campionato quello trascorso che non si è concluso con i migliori risultati la salvezza è stata raggiunta per un pelo e speriamo che il prossimo campionato venga affrontato con un progetto con una determinazione migliore e magari più efficace e vediamo ora le pagine di Pesaro per quanto riguarda il Corriere Adriatico e vediamo come il problema della siccità viene evidenziato addirittura su due pagine del giornale della nostra regione vediamo come nell'ambito del problema idrografico risalta l'apporto del fiume Metauro qui abbiamo un percorso che delinea il Corriere Adriatico è un percorso che fa un po' il monitoraggio dell'assetto del fiume e vediamo come la risorsa idrica comincia a mancare appunto sia nell'alto corso che verso il basso, verso la foce vediamo le fotografie si comincia dalle cascatelle asfittiche nella ex valle dei Gins siamo nei pressi di Urbania, Ferminiano una caratteristica cascata a monte del fiume Metauro e vedete come prima erano esuberanti queste cascate piene d'acqua ora si stanno limitando a poche goccioline l'asta 17 poi l'asta 17 è un punto in cui si monitora l'altezza della portata anche qui il livello del fiume è calato sensibilmente a Fossombrone così come a Urbania e a Sant'Angelo vediamo qui Sant'Angelo in Vado il Metauro è sempre stato un'attrattiva naturalistica è bellissimo passarci sopra un'intera giornata magari andando a pesca o a cercare una buona zona per un bagno oppure per un picnic ma adesso osservare il letto in secca fa rievocare veramente un'immagine desolata vedete qui il corso come si è ridotto con penuria d'acqua e poi la zona di Cerbara la zona di Cerbara la terra si prende il fiume e si prende l'acqua avvicinandosi a Fano non lontano dalla foce del Metauro nella zona di Cerbara l'Aset ha un suo punto di captazione ma la portata attuale è così ridotta che riesce a prelevare meno dei previsti 100 litri al secondo per quanto riguarda appunto la fornitura dell'acqua e forse si dovrà ricorrere all'acqua di falda ma qui poi c'è il problema dei nitrati vasca di colmata per il dragaggio un piano entro l'anno il dragaggio del porto uno dei problemi che Pesaro condivide con Fano il presidente dell'autorità di sistema Garofalo ha incontrato su questo aspetto gli operatori sono stati affrontati durante questo incontro i nodi prioritari del porto e si è parlato di un investimento previsto di 11,5 milioni di euro un investimento importante che se poi propone una continuazione nel tempo risolverà il problema altrimenti se sarà episodico sarà appunto una soluzione molto molto parziale e qui vediamo come i residenti di Villa San Martino protestano per il rumore emesso dalla piscina sono dei condizionatori definiti fracassoni per noi condomini notti insonne i protesti per l'impianto facchini rumorosi sono stati chiamati anche i vigili occorre insonorizzare appunto questo ambiente perché altrimenti non si dorme è un po' il problema che stanno vivendo i residenti di Carrara per quanto riguarda il rumore emesso dalla centrale elettrica anche in questo caso Terna sta effettuando i suoi sondaggi per vedere dove e come si estende il rumore e poi correre ai ripari comunque ovviamente se si desse fede alle proteste dei cittadini si dovrebbe subito intervenire per limitare il rumore senza tanti sondaggi ma però il procedimento è questo sulle siligate la velocità resta il vero problema il Comitato Consolare Flaminia applaude alla nuova rotatoria ma invita a non dimenticare il rischio di incidenti se poi una macchina affronta a velocità elevata la rotatoria gli incidenti si verificano ugualmente e quindi il Comitato invita a porre dei limiti strutturali appunto alla velocità dei veicoli ci sono degli automobilisti che non sentono ragione e corrono lo stesso nonostante i pericoli Rocca Costanza ma che degrado stiamo pulendo fossato e giardini ha dichiarato l'assessore Belloni che replica a Fratelli d'Italia e poi ancora la cronaca a Pesaro sorpreso con cocaina e hashish arresto bis per il gestore di Bazar è la seconda volta in due settimane ha patteggiato ed è tornato ancora in libertà ebbene non basta essere arrestati due volte in meno di due settimane il pasticciere commerciante di bigiotteria trentenne del Bangladesh è stato nuovamente pizzicato dagli agenti della squadra mobile per ora è ancora a piede libero forse pensava che i poliziotti una volta che l'avevano arrestato la prima volta insomma non tornassero alla carica ma i poliziotti lo hanno tenuto costantemente d'occhio e l'hanno sorpreso ancora una volta a spacciare è andato di nuovo davanti al giudice ma è di nuovo tornato in libertà botte alla moglie di proprietà condannato il marito padrone e forse più che il titolo in questo caso di violenza domestica appare significativa la fotografia e questa forse è una fotografia emblematica di come le donne anche se da noi non sono costrette a portare il burka ebbene sono costretta a sottostare alle violenze di certi uomini maneschi lei era finita addirittura in ospedale con ematomi e traumi contusivi giudicati guaribili in tre giorni da qui è partita la querela che poi magari la donna voleva ritirare perché non voleva denunciare il marito ma poi la querela è partita d'ufficio lei aveva paura anche di ritorsioni però insomma il corso ha fatto il suo iter e quindi si è andati davanti al giudice l'accusa parla di un rapporto infernale in cui lei sarebbe stata picchiata ad ogni disobbedienza trattata come una serva lui le avrebbe impedito di prendere la patente di partecipare ai colloqui scolastici con la figlia persino di acquistare farmaci e abiti ed era il fratello di lei costretto a fornirle di tutto ma anche il fratello insomma a soggettarsi a questa cosa per noi sembra un po' inconcepibile allora il collegio ha inflitto tre anni nonostante che il PM avesse richiesto per l'uomo due anni e due mesi e in più l'ha costretto a pagare una multa da 500 euro a Urbino né all'acci al gas né alla luce una cittadella indipendente su un terreno edificabile svalutato di nasta in nasta sorgeranno 25 abitazioni e questo è il caso di uno dei progetti di quei progetti che non arrivano a conclusione ebbene una ditta aveva così iniziato ha iniziato la realizzazione di un grande progetto dove dovevano sorgere 80 abitazioni però le cose non sono andate come si pensava c'è stato il fallimento poi diverse aste tutte andate a vuoto finché sembra che l'ultima possa essere prossima ad un evento conclusivo le case da 80 vengono ridotte a 25 e martedì ci sarà una nuova asta a 300 mila euro si era partiti pensate da appartamenti 80 appartamenti stimati per 2 milioni e 400 mila euro e l'area era messa a bilancio a 1 milione e 760 quindi il suo valore si è ridotto in maniera veramente sostanziale un sindaco meno distratto avrebbe trovato la soluzione dice l'opposizione urbinate per quanto riguarda la soppressione della diocesi urbino senza diocesi l'opposizione accusa la giunta di immobilità ed è la foto che appare su questo articolo di fondo della pagina di urbino veniamo ora al resto del carlino la pagina di apertura è dedicata ad un crollo un crollo di cornicione di calcinacci da un cornicione di uno stabile nei pressi dell'ufficio turismo in Viale Battisti il nostro viaggio dice il resto del carlino nella fano che non va che non va ieri i vigili del fuoco in zona mare sono intervenuti per prelevare pezzi di cornicione sopra l'edificio del turismo e mettere in sicurezza lo stabile protestano gli albergatori per una situazione di incuria e poi qui un altro sogno le terme di Carignano facciamole sottoterra ebbene è un'originale proposta di un architetto pesarese per ridurre l'impatto ambientale e conservare il bosco intatto questo posto è un Eden ha dichiarato il professionista si tratta dell'architetto pesarese Achille Pajanini che propone un intervento sotterraneo un intervento ipogeo per eliminare l'impatto ambientale e mantenere intatto il bosco è un'idea progettuale molto molto innovativa ovviamente è una proposta sua non si sa se poi la proprietà vorrà accettarlo oppure ha già un suo progetto comunque l'idea di Pajanini è quella di costruire un hotel a 5 stelle con 54 stanze comprensivo del percorso delle acque completo di palestra e piccolo auditorio e poi un parcheggio coperto con il fotovoltaico solare termico e mini eolico e poi una piscina d'acqua calda fitodepurata una cavea verde per spettacoli all'aperto e un percorso di collegamento alla passeggiata delle terme sotto il bosco secolare beh insomma sono sogni che l'architetto ha messo graficamente costruendo anche delle idee progettuali molto accattivanti che se non altro rilanciano l'idea di far presto per quanto riguarda la realizzazione del progetto delle terme vi segnalo un'ultima notizia per quanto riguarda l'ASET Reginelli va verso la fine del suo mandato ci dovrebbe essere però la conferma fino alla fine della tornata amministrativa l'ASET sta presentando il suo bilancio verrà discusso nella prossima seduta del Consiglio Comunale con un utile pari a 5 milioni di euro un utile considerevole forse il più alto raggiunto dall'azienda di servizi e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani buona giornata buon proseguimento